In quel tempo Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Sì, disse loro Simon Pietro, io vado a pescare. Gli dissero, veniamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla, quando già era l'alba. Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro, figlioli, avete da mangiare? Gli risposero, no. Allora egli disse loro, gettate la rete dall'altra parte della barca e troverete. No. La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro, è il Signore. Simon Pietro appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra, se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù, portate un po' del pesce che avete preso ora. Allora Simon Pietro salì sulla barca e trasse a terra la rete piena di centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si spezzò. Gesù disse loro, venite a mangiare. E nessuno dei discepoli osava domandargli chi sei, perché sapevano bene che era il Signore Gesù. E allora Gesù si avvicinò, presi il pane, lo diede loro e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Eccoci, cari amici, una pagina di Vangelo straordinaria, bellissima. E con voi vorrei condividere tre orizzonti. Tre orizzonti. Il primo orizzonte, se volete, è geografico. Il secondo orizzonte, temporale, cioè il tempo. E il terzo, relazionale. Allora, il primo orizzonte, geografico. Dove ci troviamo? Vediamo un po' se riusciamo... Lachi, vieni qui? Vediamo se riuscite... Avete ascoltato il Vangelo insieme a me, sì? Qual era il posto che Gesù indica che Gesù vive con i discepoli in questa pagina, eh? Vediamo un po'. Vediamo un po' se riuscite. Abbiamo ascoltato, sì? Dove ci troviamo? Dove ci troviamo? Eleonora, fortunata, eh? Dove ci troviamo? Tiberiade. Il lago di Tiberiade. Non vi dice niente questo luogo? Vediamo un po' se... se vi dice qualcosa, eh? Qui sono i vicoletti di Assisi. Galilea, sì. Il lago di Tiberiade. Siamo nella zona di Tiberiade, però il lago di Tiberiade. Vi ricordate dove Gesù aveva chiamato i discepoli? Quando Gesù chiama i primi discepoli, Andrea, Giovanni, Simone, eh? era nel lago di Tiberiade, presso il lago di Tiberiade. Quindi ci troviamo nello stesso luogo, eh? Potremmo dire. Nello stesso luogo. È interessante questo aspetto geografico. Vedete? Non è un caso, eh? Non è un caso. Gesù riparte dai discepoli dal luogo dove l'aveva chiamati. È un luogo, quindi, importante, con una simbologia importantissima. Poi vi dirò anche perché è importante questa simbologia. Ricordatemi perché alla fine riprendiamo il cammino, eh? Riprendiamo questo luogo perché io credo che qui ci sia la chiave di volta per capirci e capire. C'è una chiave di volta in questo luogo. Poi, il secondo orizzonte, ho detto temporale, eh? E notte, i discepoli vivono un fallimento. Cioè non avevano pescato nulla. Potremmo dire una notte nella notte, eh? Già erano in crisi, erano un po' rattristati perché facevano fatica a credere alla resurrezione di Gesù. Vivevano, potremmo dire, una specie di depressione. Quando sapete, a volte a noi ci capita, no? Mi pare che si sono messe tutte in fila le sventure. Quando ci capitano delle disgrazie uno dietro l'altra. Mi pare che il Signore ce l'ha con noi. E' un modo di dire che però se colto attentamente ci porta alla luce. E' quello che avevano vissuto i discepoli. Una notte nella notte, nella tristezza di aver perso il maestro e il fallimento dei loro sogni. Ancora tristezza perché cercano di riandare a pescare, di ricominciare. E invece bang da un'altra ammazzata, non prendono niente. Come devono sfamare le loro vite, le loro famiglie, eh? Ebbene, qui ci viene incontro l'altro aspetto. L'alba. Vedete, ogni momento di sofferenza ha una notte, ma anche un'alba. La notte del venerdì santo ha l'alba della risurrezione. La notte del dolore ha l'alba, eh? Del pace a voi. La notte è della disperazione ha la parola di Gesù. Voglio mangiare con voi qualcosa, eh? Avete qualcosa da mangiare? Cioè, Gesù si fa prossimo a noi, ci viene incontro in punta di piedi, eh? E ci dice, ci sto io qui, sto io con te, eh? Sono io in carne ed ossa. E ancora, quindi, abbiamo un orizzonte temporale che va dalla notte all'alba, che cambia completamente le prospettive e la prospettiva dei discepoli. Cambia il modo di vedere il mondo completamente. È l'alba. In quest'alba si sentono dire, voi mi sarete testimoni. Cioè, è cambiato tutto. Da quel momento di disperazione a un momento di ricominciamento. E andremo sempre sul luogo di Tiberiade, no? La prima notazione che vi ho fatto, perché dovremo andare lì per capire, eh? Che cosa fa scattare, eh? Questo ricominciare, cosa fa scattare la resurrezione dei discepoli, eh? Perché quella di Gesù è avvenuta. Ed infine, eh? Quindi non solo un orizzonte geografico, non solo un orizzonte temporale, ma anche un orizzonte relazionale. La scena, potremmo dire, la rubano due discepoli. Simone, Pietro, quindi, e Giovanni. Potremmo dire il roccioso, il testardo, eh? L'indisponente, eh? E il tenero, eh? Giovanni. Colui che aveva appoggiato la testa sul petto di Gesù. Colui che griderà, eh? Eh, è il Signore, l'ho riconosciuto, è Lui. E farà scattare tutti i discepoli. Bellissimo questo. E vivono una, potremmo dire, una concorrenza tra loro, una rivalità. Una sana rivalità, eh? Vedete, è bellissimo questa rivalità tra i due discepoli. E vi vorrei, però mi devo appoggiare un attimo qui. Guardate che bel porticato, eh? Vi vorrei leggere, vediamo se riesco a prenderlo. Allora, ecco qui. Questo l'avevo segnato a pagina 5. Poi ricordatemi che vi devo dire che sto scrivendo un libro bellissimo. Più piccolino, 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 eh? E sapete cosa hanno fatto notare di questi due discepoli, eh? E' inutile tacerlo. Nel quarto Vangelo, tra il discepolo amato e Pietro, quindi tra Giovanni e Pietro, c'è una vera e propria sana concorrenza. Non una concorrenza di gelosia. I due discepoli sono diversi. Nell'ultima cena Pietro sta dopo il discepolo amato, presso Gesù. E a lui, che ha abbracciato Gesù sul petto, Pietro chiede, informati chi è traditore. Ma ancora, il discepolo amato, ricevuto da Gesù la risposta, non la dice a Pietro, eh? Se la tiene per lui. Poi, nell'alba della risurrezione, informati da Maria di Magdala, Pietro e il discepolo, Pietro e Giovanni, corrono al sepolcro. E l'Evangelista Giovanni ci fa notare che lui corse più veloce, però non entrò. Lascia entrare Pietro. Poi, Pietro è descritto come colui che non avevano ancora compreso la scrittura, la parola, eh? Cioè che doveva risorgere dai morti. E ancora, Giovanni è quello che lo riconosce prima di Pietro, eh? È il Signore, è il Maestro. Quindi una sana concorrenza. A me è venuta in mente una frase di San Paolo bellissima. Siete pronti a scriverla, eh? Perché di questa concorrenza, di questa rivalità, l'Apostro Paolo ci dice una cosa veramente straordinaria. Siete pronti? Però vi voglio guardare adesso, eh? Siete pronti a scrivere, eh? Sì o no? Dice così, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Noi a volte gareggiamo per fare le scarpe all'altro, a volte gareggiamo, eh, per sembrare migliori degli altri, a volte gareggiamo per denigrare l'altro, per rovinare la vita all'altro, eh? Gareggiate invece nello stimarvi a vicenda. Questa deve essere la nostra gara, potremmo dire, eh? Siete d'accordo su questo aspetto? Sì o no? Voglio vedere dei sì. Siete d'accordo su questo aspetto di gareggiare nello stimarci a vicenda? Vedete, è importante questa dimensione, questo aspetto. Voglio vedere questi, vediamo se riesco a vedere i commenti, eh? Ce lo prendiamo questo impegno di gareggiare nello stimarci a vicenda, nel volerci bene. Eh, qualcuno dirà, eh, Padre Enzo, non è semplice, eh, Padre Enzo, però c'è, oggi ho letto una lettera che mi diceva una persona che mi ha scritto, dice, io cerco di essere tranquilla, però c'è questa in ufficio che cerca sempre di mettermi da parte, eh? Noi come dobbiamo rispondere, eh? Monica, come dobbiamo rispondere? Eh, vedo i sì. Come dobbiamo rispondere? Eh, che gareggiamo noi nello stimarci a vicenda e ne volerci bene, eh? Gareggiamo. Questa è la gara che dobbiamo fare. Quindi questa bella rivalità tra Pietro e Giovanni è nell'amore, eh? A chi riconosce prima il maestro, a chi ama di più il maestro, a chi gli corre in prima... E vedete, è il maestro in ogni persona che sta davanti a noi, attorno a noi, in casa, eh? Io penso ai genitori, gareggiate nell'amare i figli, eh? Gareggiate nell'amare i figli. E ai figli dico gareggiate i giovani nell'amare i vostri genitori, eh? Gareggiamo in questo. E le cose cambieranno. Cambieranno in modo straordinario, eh? E sarà resurrezione. E allora diremo ho riconosciuto l'amore. E vado al cuore di questo Vangelo. Ve lo dicevo all'inizio, ecco, non mi sono dimenticato. Vedete, l'ho scritto. Per capire, guarda qua cosa ho scritto, per capire l'amore, eh? Dobbiamo ritornare nel luogo dove questo amore è iniziato. Io credo che questo sia il messaggio del Vangelo di stasera, che ci accompagnerà nella giornata di domani, di oggi, eh? Penso a cui si affaccerà domani mattina. Dobbiamo ritornare nel luogo dove è iniziato l'amore. Ecco perché Gesù si fa riconoscere a Tiberiade, in quel luogo, eh? Presso il lago di Tiberiade, in quel luogo dove era iniziata l'avventura, dove era scattata la molla in Gesù per i discepoli e nei discepoli per Gesù. Si erano innamorati, eh? Avevano insieme coltivato un sogno. No, a volte la vita ci presenta tanti dolori, a volte la vita ci presenta tanti imprevisti, a volte la vita si presenta con le sue fontane senza acqua, eh? A volte la vita si presenta senza una via d'uscita. Il rischio è quello di abbatterci, eh? E invece ritornare nel luogo del nostro sì, del nostro amore, dell'innamoramento. Lo dico alle coppie in difficoltà. Ritornate nel luogo dove vi siete baciati per la prima volta. Basta stare in silenzio e riprendere in mano quel sogno. Lo dico alle persone che fanno fatica ad andare avanti. Ritorniamo in quel luogo dove noi avevamo acceso alla fiammella della vita, dell'amore, del sogno. Sapete? E vado verso la conclusione. Francesco d'Assisi è andato nel luogo sempre ci andava, nel luogo dove aveva sentito la prima volta va e ricostruisci. Ed è stato quello, quel sogno, la forza della sua vita. Dove l'ho messo? Vediamo un po'. Avevo. E vabbè, ve lo leggerò domani sera allora, eh? O l'ho dimenticato? Vediamo, forse l'ho dimenticato nel poggetto, eh? Dove mi ero fermato prima. Sto ritornando leggermente indietro perché mi ero portato un libricino che avevo trovato una frase molto, molto forte di Victor Frankl che era stato nei campi di concentramento. No, l'ho lasciato sulla schivania allora, eh? E aveva, e aveva notato come le persone, eh? Che davano un senso e un significato e ritornavano alla forza, eh? Che le aveva spinti a vivere la vocazione familiare, al matrimonio, Al compito, eh? Che portavano avanti. Bene, quell'aspetto gli dava la forza per affrontare anche la notte più buia di Auschwitz. e anche lui stesso dice, eh? Ho ritrovato la forza nel sogno di voler aiutare gli altri, quello che lui si era dato fondando quello che è stata poi una grande scienza, quella della logoterapia, eh? Allora voi capite quanto sia importante questo luogo, eh? Questo luogo di Tiberiade, eh? Del lago di Tiberiade. Ci andiamo allora, anche simbolicamente in questo luogo dove è nato l'amore, eh? Vedete, anche quando a volte molti mi avete confidato, eh? La mia fede è spenta, A volte non mi sento motivato. Riandiamo al motivo che ci aveva portato in Chiesa, al motivo che ci aveva portato a fare quella prima preghiera, al motivo che ci aveva portato ad abbracciare il Signore. Questo a livello religioso, ma anche a livello esistenziale, no? Penso alla vocazione di essere papà, di essere madre, di essere fratello e sorella, alla vocazione di essere amico. Quando è importante l'amicizia. Bene, allora, eh? Io mi fermo, mi fermo qui, eh? Mi fermo qui, e andiamo avanti, andiamo avanti, eh? Allora, vado adesso, brava gente, ah, vorrei ricordarvi che domani alle 15.30 sarò su un programma su Rai 3, su Rai 3, e parleremo del linguaggio della Chiesa, eh? Quindi domani alle 15.30 e poi ci vedremo domani sera, comunque domani sarò in diretta su Rai 3 alle 15.30. E poi, eh, vi inizierò a chiedere qualche riflessione che mi potrà aiutare. sto terminando a scrivere un piccolo libricino dal titolo, ve lo dico? Ve lo dico, dai? Se ritornasse Gesù, se ritornasse Gesù, eh, lo consegnerò alle stampe, molto agevole, molto piccolo, una quarantina di pagine, sono, è proprio una meditazione potremmo dire, la domanda è sottotitolo al cuore del cristianesimo, eh, al cuore del nostro vive, del nostro agire. Che succederebbe, eh, eh, scrivetemelo, se Gesù bussasse stasera a casa vostra, bussasse alla vostra porta, hm? Proviamo a rispondere a questa domanda, come ha bussato nella notte, eh, dei discepoli, che si è fatto trovare, ha bussato alla loro vita, eh, sono qui, abbiamo visto la reazione di Giovanni, di Pietro, se Gesù bussasse alla nostra porta, di casa, eh, in questo momento, voi sentite il campanello suonare, provate a rispondere, se volete, mi potete anche scrivere sulla mia mail, e mi aiuterà anche a completare questa riflessione che sto facendo, poi vi, vi comunicherò anche cosa ho elaborato, io, cosa ho scritto, cosa il mio cuore mi ha dettato, hm? e ci ritorneremo, va bene? Bene, allora, brava gente, eh, allora domani alle 15.30 sul Rai 3 e poi domani sera, e adesso vado, eccoci qua, vediamo, eccoci qua, eccoci qua, ieri sera, le persone, si sono capiti i saluti di ieri sera, quelli che avevo fatto poi, che ieri abbiamo avuto dei piccoli problemini con l'audio, eh, buonasera, buonasera, brava gente, allora, andiamo avanti, eh, eccoci qua, eccoci qui, vediamo un po', ce la facciamo, sì, se tu lo potessi toccare, la sua veste, padre, penso sempre a questa frase, bella, bella, bene, allora andiamo ai saluti, intanto buonasera, brava gente, buonanotte, per chi ci lascia e per chi si affaccia domani mattina, buona giornata, brava gente, eh, bene, io saluto nonna Lena che mi ha inviato la pastiera napoletana, eh, grazie, grazie, eh, e poi Sara mi ha chiesto gli auguri per la sorella Marta che compie gli anni oggi, ogni bene Marta, coraggio, forte, poi Francesco, gli auguri per i suoi 25 anni di matrimonio con Marilena, sicuramente una benedizione, e San Francesco e San Francesco in ondi rivigorisca il vostro amore, eh, dalla Calabria, forti, poi Maria, gli auguri per la mamma Ida, 70 anni oggi, e dalla signora Maria, dal marito Luigi, e dall'altra figlia Domenica, dai generi, dai nipoti Federica, Gianluigi, Claudia e Paola, e allora ogni bene, mamma Ida, 70 anni, coraggio, poi Mariolina e le sue sorelle, Fatima, Anna, Franca e Rita, gli auguri per la sorella Giovanna, vedi, tutte le sorelle, ti vogliono bene, vedi, straordinario, ogni bene, poi Maria Cristina, gli auguri per i suoi 41 anni, eh, contenta, bella, essere contenti, sono contenta, che bellissimo, contenti, eh, contenti, significa contenere la vita dentro, eh, è bello questo, eccoci qui, vediamo, ce la farò, ce la farò, sì, eccoci qua, Iole, gli auguri di buon compleanno, per il nipotino Pio, che fa due anni oggi, eh, avanti, forte, eh, un abbraccione al nipotino, l'affidiamo a San Francesco, Iole, eh, poi, eh, oltre a quella di, ha affidato anche a Padre Pio, è certo, è certo, poi, Aura Pennisi, da Cireale, ci ha mandato i dolci, eh, grazie, grazie, in redazione li consumiamo, e poi, porto anche ai nostri, ai nostri frati in comunità, che vi salutano, eh, saluta tutta la brava gente, mi ha detto stasera, fra Rolando, fra Alfio, eh, e avanti, che pregono anche per noi, bene, ci siamo allora, se mi dimentico qualcosa, che dovete fare, che dovete fare, se mi dimentico qualcosa, vediamo se vedo, eh, vediamo, vediamo, sicuramente prego per voi, eh, sicuramente, mh, thank you Father Enzo, for the privilege, questo è da Londra, giusto, ogni bene a te, poi, eh, vediamo, no, se mi dimentico qualcosa, che dovete fare, eh, vediamo se arriva, dovete, riscrivere, ecco qua, è arrivata, Cecilia, ogni bene a te, Cettina, ogni bene anche a te, coraggio allora, saluto tutti, eh, se qualche volta avete qualche domanda particolare, o qualche situazione, scrivetemi su, redazione, chiocciola, sanfrancesco.org, riscrivere, analisa, giusto, ecco, riscrivete, mi raccomando, ok, e ci auguriamo una santa notte, domani allora alle 15 e 30, per chi può, sul re 3, e, e poi domani sera, domani sera, ok, e, chiediamo a San Francesco la benedizione, per ciascuno di noi, per le intenzioni che portiamo nel cuore, eh, San Francesco, il Signore per l'intercessione di San Francesco, ci benedica e ci sostenga, nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo, Amen. Buonanotte, brava gente, buona giornata, brava gente.